ciao a tutti ragazzi io sono magicolo e benvenuti nel settimo gameplay di combat 3 seconda stagione secondo gameplay ok machu picchu proviamo questa mappa che non ho mai provato ci sono dei rumori che sembrano essere di una foresta foresta amazzonica voi mi chiederete perché stia parlando inglese non lo so questa puntata la voglio fare così parla inglese attenzione ok entriamo nel tipo c'è qualcuno che spava vediamo come siamo messi 8 9 9 10 ok benissimo ho perso devo dire che ho fatto molto quindi proviamo con una nuova partita benissimo mi sembra una mappa un po troppo grossa questa per giocare ehi ehi lì c'è qualcuno no no chi c'è o chi che spara piano piano chi sta a sparare allora siamo a machu picchu come avete capito oh ecco ti ecco ti viene qui viene qui il sacco di bustello viene qui come dite voi in italia chi è che spara porca porca caccia dio salve la regina god save di qui io posso morire ma non uccidete la regina mi raccomando mi raccomando bastardo come faccio ok bene proviamo a cecchina rompa e one ma porca caccia di miseria piano piano stavolta ma chi è che spara chi è che sta a sparare piano qui finisce male finisce veramente male chi ce l'ha ti ho visto managgio alla miseria questa mappa non mi piace per niente e dai e perché non salto salta salta scusate adesso torno inglese mi dispiace allora questo è un cecchino sì ma porca miseria come faccio andare lì dove ma chi è che spara porca miseria ma che cavolo sta succedendo allora ok ma che caccia porca caccia adesso mi sto ecco l'ho visto l'ho visto lì chi è là ma va a fanguolo è morto ok ok mi piace questa voce inglese o vi dà fastidio facciamo un exit map non si può bene allora se io andassi lì perderei solamente tempo quindi non facciamo perché non vedo i nemici questo lo voglio lo vorrei sapere ma porca miseria come si va di là porcaccia la miseria fatevi vedere fatevi vedere porcaccia ma chi è che spara se non è lui chi è dov'è dov'è quell'altro ma porca non ci capisco un tubo dai ho capito dai cerchiamo e basta ecco ma mi vede già come è possibile oh fuori fuori dalla balla fuori fuori è una cecchina tosto gioco dai vieni vieni se c'è coraggio via ma c'è un piccio un mitra eccolo qua benessimo mancano quattro minuti solo quattro minuti e fatti prendere ok ma c'è un labirinto gli uccellini che mi spruzzinano ugazzo dove sono tutti orchia chi è qua fammi prendere sto mitra grazie allora dov'è 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 le sta per pensare che stavolo succedendo porca oh oh non si capisce mai qualcuno è morto e qualcuno è vivo io sono viva chi c'è quassù tana per johnny porca mi ha già visto lo sapevo lo sapevo ma perché non muore lo compito due volte ma dove dove ecco ecco no moto visto porcaccia la miseria morto fuori fuori dai un altro un altro ne me ne serve un altro ragazzo il tempo ormai è finito però ce lo possiamo ancora fare dai ma porca l'ho visto l'avevo visto ragazzi vi giuro che questa è la mappa peggiore che io abbia mai visto una roba veramente non si può uscire che ti cerchino no capito e no moto visto sto un colpo com'è possibile che cavolo di premium c'ha questo premio un colpo premium ma porca dove si appa non ha visto e ti pareva ma come fa lanciare granate fino a qua non è possibile neanche superman neanche johnny ok dov'è come ha fatto colpito basta una cecchinata per uno e tutti ce l'hanno dura ma porcaccia ma che labirinto ecco ma dove sono ecco 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 mi dispiace amico che cavolo che cavolo ma mi risponde ma dietro com'è possibile fatevi vedere ma non è possibile gioco di merda cazzo allora fatevi vedere dove siete siete miei amici fatevi vedere ma che cavolo sto faccia eccolo ecco 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 avullo dove sono tutti si saber ma che... l'ho fatta Eccolo là Ok ragazzi Questa è stata una merda Spero di non Scusate Spero di non ritrovarmi più Nelle circostanze di giocare a una mappa del genere Grazie a tutti e arrivederci